È possibile che Canon EOS R5 sia una delle migliori fotocamere mirrorless in circolazione? Ovviamente non ho la pretesa di rispondere a questa domanda in un unico video, però oggi andremo a fare un unboxing. E per chi segue questo canale da abbastanza tempo saprete già che i miei unboxing hanno sempre qualcosa di particolare. Infatti oggi non abbiamo la classica scatola, bensì abbiamo una valigetta, e questo perché questa fotocamera non è mia, ma è noleggiata. Andiamo dunque a fare l'unboxing e facciamo finta che sia un unboxing vero, ma io vi farò vedere quello che c'è in un case rigido nel momento in cui andiamo a noleggiare questa strumentazione. Prima di cominciare vi ricordo che questo è un canale che si occupa di fotografia, videomaking e design, per cui se questi temi vi stanno a cuore andate a cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e lasciate anche un like a questo video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi vi mostro che cosa c'è dentro un case noleggiato contenente un kit Canon EOS R5. Per cui abbiamo la fotocamera, abbiamo tutta una serie di cose che adesso passeremo in rassegna. Ovviamente ve la faccio sudare un po' perché così rimanete fino alla fine, per cui qui abbiamo un cavetto USB-C con adattatore, quindi sì è un USB-C pura con un adattatore USB normale. Ovviamente io non lo userò, però ci sono dei motivi per cui mi hanno messo questo cavo. Dopodiché abbiamo un caricabatterie che è il normale LC6E, quindi caricabatterie normale, che abbiamo già in dotazione se abbiamo altre fotocamere Canon professionali, abbiamo il cavetto dell'alimentazione e del caricabatterie. Una cosa importante che mi hanno dato è questo adattatore Lexar e me l'hanno dato perché, ovviamente c'è il suo cavetto con USB-C e di nuovo USB da computer, mi hanno dato questo adattatore perché questa fotocamera utilizza due memory card diverse. Infatti eccole qui, andiamo a vedere che abbiamo le memory card di tipo CF Express, ovvero le Compact Flash Express. Ora queste confezioni sono a prova di furto, quindi adesso sono riuscito ad aprirne una. Ve la faccio vedere, questa qui è la nuova Compact Flash sostanzialmente, e quello che io dicevo in un video precedente che vi lascio linkato in card riguarda proprio questo. Per molte di queste fotocamere e videocamere la vera rivoluzione, a mio parere, consiste proprio nell'adozione di nuovi tipi di memory card, perché quando andiamo a scrivere foto e video sempre più pesanti, la vera rivoluzione passa da qui, più che dal sensore, più che dal processore. Quelli erano già buoni. Le immagini che avevamo dieci anni fa, cinque anni fa, erano già fantastiche. Lì non ci sono stati tantissimi progressi. Ovviamente è tutto progredito, ma non così tanto. Secondo me la vera rivoluzione è il fatto di poter scrivere dei formati molto più pesanti su memory card come questa. Ovviamente se andiamo a scrivere un 8K RAW su una vecchia SD, è poverina se scioglie, cioè esplode, esplode tutto. Invece con queste ce la facciamo. Questa qui è una memory card da 128 GB con 1600 MB di velocità di scrittura e 1700 di lettura, ma questo ci interessa un pochino di meno. Comunque siamo su 1600 MB al secondo di scrittura, questo è tanto, è ottimo per una fotocamera come questa, mi permette di lavorare bene. Quindi adesso vado a rimetterla via. Ovviamente, altra cosa che viene fornita è la tracolla. Io questa non la userò perché righerò questa camera immediatamente. Questa fotocamera è stata noleggiata per fare un lavoro di timelapse abbastanza impegnativo. Ve ne parlerò approfonditamente in un altro video. È stata noleggiata appositamente per fare una cosa particolare che con la mia strumentazione non avrebbe avuto la resa desiderata dal cliente. Altra cosa che viene fornita è questo. Questo qui è l'adattatore dalla monta RF alla monta EF. Andiamo a vedere. Non so se riuscite a vedere sulla ghiera. Qui ci sono i due puntini perché questo è un adattatore che prende sia le lenti EF sia le lenti EFS. Quindi è possibile montare anche le lenti APS-C sopra questo corpo macchina. Poi abbiamo le batterie. Due batterie fornite. Queste qui sono le LP-E6NH che dovrebbero essere le nuove batterie per mirrorless. Ora queste batterie hanno una particolarità. Tramite un device, un cavetto sostanzialmente, di cui ho già fatto un video che vi lascio in card. Andatevelo a recuperare. È possibile ricaricare queste batterie direttamente in camera, quindi senza passare dal caricabatterie. Questo è un vantaggio per due motivi. Il primo è che ci permette di non portarci dietro il caricabatterie e di ricaricare direttamente in camera. Il secondo motivo è che ci permette anche di lavorare con la camera connessa al cavo di corrente. Quindi nel momento in cui stiamo lavorando, la fotocamera si alimenta tramite il cavo di corrente. Nel momento in cui spegniamo la fotocamera o nel momento in cui la camera va in stand-by, ricomincia a essere ricaricata la batteria. Bene, tutto questo è molto interessante, però rullo di tamburi perché stiamo andando a tirare fuori il pezzo grosso. Eccoci qui. Questa qui è Canoneos R5. Come potete vedere qui c'è il loghettino del nolleggiatore. Allora, vi posso dire, first impression, shock, si può dire. Cioè, è veramente, veramente bella. Sta molto, molto bene in mano. Il mignolo è giusto, come potete vedere. Il grip è perfetto. Allora, adesso non c'è montata nessuna lente. Il grip è abbastanza profondo, vedete? Quindi nel momento in cui io la vado a tenere è abbastanza comoda l'impugnatura. Avremo un peso qua, quindi io riuscirò a tenerla perfettamente anche senza il pollice. Per cui da quel punto di vista, devo dire, sembra costruita molto, molto bene. Oltretutto, essendomi informato precedentemente, vi posso dire che questa qui è una top di gamma per quanto riguarda le mirrorless di Canon, perché per costruzione e per tropicalizzazione sostanzialmente come rivale ha solamente R3. Quindi è una fotocamera costruita molto meglio sia di R7 sia di R6. Ovviamente, visto che costa il doppio di entrambe se non di più. Nel momento in cui andiamo ad aprirla, ovviamente, non so se riuscite a vedere, la tendina è chiusa, perché il nuovo sistema Canon prevede una tendina che si chiude da sola allo spegnimento della fotocamera per andare a proteggere il sensore. Quindi veramente, a parer mio, un pezzo eccezionale. Sono veramente curioso di metterla alla prova. Ora, vi sarete domandati perché c'è un adattatore. La risposta è che noi andremo a utilizzare questa fotocamera con lenti EF, sempre noleggiate, perché per fare timelapse fondamentalmente non è necessario avere delle lenti RF. Quindi non è stato necessario noleggiare delle lenti più costose di fascia superiore, è stato sufficiente noleggiare delle lenti EF. Qualcuno si starà domandando come mai non usi le lenti RF che hai già. Ok, visto che questa è una cosa curiosa che poi immagino molti potrebbero chiedermi nei commenti, la risposta è molto semplice. Nel momento in cui andrò a realizzare il timelapse con questa fotocamera, la fotocamera verrà abbandonata durante la sequenza di cattura e io nel frattempo dovrò recarmi in un'altra stanza o comunque in un altro ambiente di questa struttura e fare uno shooting fotografico. Quindi le mie lenti mi servono altrove. Per questo motivo sono state noleggiate anche delle ottiche da abbinare a questa fotocamera. Semplicemente un chiarimento. Amici, a questo punto io sono veramente impaziente di mettere alla prova questo meraviglioso corpo macchina. Vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha, se qualcuno di voi la usa, se avete consigli da darmi sul timelapse. Fatemi sapere anche se vi siete trovati bene o male con questa camera oppure se state pensando di acquistarla. Se avete domande specifiche, parimenti vi aspetto nei commenti. Spero di potervi rispondere perché l'avrò in mano per un periodo di tempo molto limitato e la utilizzerò quasi esclusivamente per fare timelapse. Quindi farò un paio di test di low light, farò un paio di test di velocità di messa a fuoco così da potervi dare le risposte. Però se volete sapere qualcosa di fuori di questo, scrivetemelo lo stesso e vediamo se lo so. Mettetemi pure alla prova. Detto questo, io e R5 vi diamo appuntamento al prossimo video.